ma dai tranquilla pepe ma sai che oggi al ristorante un astronauta ha chiesto al conto la rovescia eeeh a questo cosa sei tenuta per la fine eeeh come faccio come faccio eeeh d'accordo questa è una forte però il carino c'è che ci sono due promotori che devono attraversare la strada e uno fa l'altro attento la macchina p quale macchina p vorrei mettere una musica sopra tranquilla occhio gli schiumini si gli schiumini gli schiumini poi i kamikazini kamikazini le droie le droie no le drone le drone le drone le spero le spero sepepe che dove lavoro io c'è uno che è talmente basso no che allora ha detto quelli puzzoli i piedi pepe è morto l'uomo l'uomo la l'uomo il l'uomo 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 Eccolo... Bastardo, non è arrivato. Che s***... Che s***... Che s***... Che s***... Pepe... Anche la faccia va colpita... Pepe... Preparatevi un palletto, ragazzi, perché è finito! Che s***... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.